L'acqua che serve ad alimentare lo stabilimento termale viene dalla solfatara o lago della regina. Sgorga tra il gorgoglio delle bolle di gas alla temperatura di 24 gradi e nel bacino del lago assume un'intensissima e stupenda colorazione azzurrina. Poco lontano dal paese c'è poi il Ponte Lucano sul quale si incontrarono il Barbarossa e Papa Adriano IV fuggito da Roma in preda al terrore per i tumulti dei cittadini scontenti dell'incoronazione imperiale.